Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati oggi su WWE 2K16. Ragazzi, sono nella modalità Universe, quindi oggi giocheremo a questa modalità. Qui c'è disputa match. Ragazzi, andando qui, questi sono i match che posso disputare. Abbiamo John Cena contro Ryback, poi abbiamo Nikki Bella contro Paige, poi c'è Daniel Bryan contro Jax Wiger, poi abbiamo il tag team di Kingston e Woods contro O'Neill e Young. Questo match l'avevo già disputato in un altro video, se non l'avete visto andatevelo a guardare, nel quale aveva vinto Undertaker contro Shemus. Poi Seth Rollins contro Roma Reigns e infine abbiamo Brock Lesnar contro Dan Ambrose. Ragazzi, io direi che oggi parto da questo match. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, io sono John Cena. È subito su Owens. Ecco qua ancora Cena. Andiamo subito su Ryback. Lo giriamo e cazzottone a Ryback. Attenzione, calcione. Ecco qua. Owens, frattempo, mi ha pronti già a prendere la prima volta. Ho spinto R2. No, troppo tardi, se non l'ho visto male. Owens, Ryback. Ecco qua Cena. Grande mossa. Sono messi in due contro di Owens. E andiamo a colpire subito Ryback. Qua ha colpito Cena. Attenzione. John Cena contro Mossa. Anche Ryback. Attenzione Ryback. Ci fa una contro Mossa. Attenzione qua troppo tardi. Owens ci porta al centro del ring. Eh, calcione in faccia. La Ryback. Che potenza. Su Owens. Bravo Cena, però qui. Proviamo a schienarlo. Attenzione. Uno, due. No, ragazzi, di pochissimo. Potremmo già chiudere il match. Qua Cena. Attenzione che possiamo schienare Ryback. Uno. Due. Guardate Owens, niente da fare per Ryback. Si rialza al due. Qua. Contro Mossa di uscita. E sentite il pubblico, come ci rincita. È quasi in a... Attenzione qua. Posso provare la special. Mossa finale, attenzione. Mossa finale su Ryback. Vediamo se riesco. Vediamo. No, ragazzi, si è liberato. Ce l'abbiamo fatta. Contro Mossa. Attenzione. No. Bugia. Non ce l'abbiamo fatta. La Ryback, ragazzi. Mamma mia. Che potenza Ryback. Ero convinto di avercela fatta. Invece no. Attenzione a Owens, però. Su Ryback. Owens di furbizia. Attenzione, ragazzi. Non vorrei che... Provassi a schienare. Ci dobbiamo rialzare. Infatti, ci sta provando. Andiamo a interrompere tutto subito. Ok, ragazzi. Pronti sul tavolo. No. Non ci sono riuscito. Ecco qua, John Cena. Attenzione. Qua ancora, Sina. Sina. Cazzi, c'ho la final. Devo sprecare bene la final. Attenzione, attacco in coppia. Ancora ce la fa. Attenzione. John Cena. Riesce. Grande John Cena. Entriamo sul ring. Attenzione qua, John Cena. Proviamo la mossa finale. Eccola qua. Mossa finale. John Cena. Come back subito. Torniamo dietro. Schienamento, ragazzi. Proviamo ora. No, no, ragazzi. No. Ancora John Cena. Attenzione qua, Owens. Attenzione a Owens, ragazzi. Che mi ha provato a schienare. Attenzione, ora proverà a schienarmi. Sta entrando in gioco di nuovo. Ryback. Eh, lo ferma. Ragazzi, siamo allo stremo delle forze. Owens c'ha anche la final. Io c'ho di nuovo la special. Come anche Ryback c'ha nuovamente la special. Peccato, ragazzi. Prima ho mancato un'occasione incredibile. Attenzione qua, Owens. Attenzione qua. Ancora. Owens. Che ha la final. Siamo in due a terra. Ryback e John Cena. Owens è l'unico in piedi. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Non ce l'ho fatta. A evitare la mossa di Ryback. Comunque è un match che sta durando tantissimo. Ora Ryback. Mamma mia, ragazzi. Che mossa. E ora proverà a schienarmi. Ma c'è subito Owens. Pronto a fermarlo. E qui Owens. Ora su Ryback. E qua. Dobbiamo evitare tutto. All'azione qui. Ad Owens ancora. Su di noi. Dobbiamo recuperare, ragazzi. Ci dobbiamo anche muovere. Guarda, ragazzi. Ci siamo ripresi. Attenzione qua. Sina. Attenzione. Che possiamo schienare. Possiamo schienare. Possiamo schienare. Andiamo allo schienamento. Andiamo allo schienamento. 2, 3. E vinciamo. Vinciamo il match, ragazzi. Abbiamo vinto. No. No, ragazzi. Ero convinto di sì. Porca miseria. Ero convinto di sì, ragazzi. Attenzione qua. No, ragazzi. No. Ryback. Mossa finale. Attenzione. Ryback no. Si è ripreso Owens per fortuna. Owens. E qui. Mossa finale. Attenzione. Mossa finale, ragazzi. Mossa finale. Subito schienamento. Mossa finale. 1, 2, 3. E stavolta vince. Vince John Cena per schienamento. Dopo tantissimo tempo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E vince John Cena. E ragazzi. Si conclude questo episodio della WWE Universe. Quindi spero che vi piaccia questa serie. Ragazzi. Magari vi porto la Universe anziché la mia carriera. Che magari è un po' più interessante. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi. Lasciate like. Commentate. Condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83. Tutto. Bella.